Ad un anno dalla sua scomparsa, la Società Gerrese di Storia, Patria e Cultura, con l'appoggio del Comune di Riposto, ha voluto organizzare un incontro per ricordare la figura del professore merito Giuseppe Gerrizzo. Nato a Riposto l'8 febbraio 1927, Gerrizzo si laurea a Catania in Lettere Classiche nel 1949 e in Filosofia nel 1950, proseguendo poi gli studi a Napoli all'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Appena cinque anni dopo, diventa libro docente di storia moderna, conducendo nel frattempo ricerche di storia intellettuale del XVII e XVIII secolo a Londra, Oxford e Parigi. Nel 1964 diventa titolare della Cattedra di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania, ricoprendo poi dal 68 al 99 l'incarico di preside di quest'ultima. È proprio su sua iniziativa, inoltre, che si procede al restauro del Monastero dei Benedettini a Catania, ad oggi attuale sede della Facoltà Umanistica. Negli anni 80 e 90 ricopre diversi incarichi istituzionali, accademico dei lincei, direttore dell'archivio storico per la Sicilia orientale, presidente del Teatro Stabile di Catania, e non fece mancare il suo apporto neanche sulla scena politica, dove fu dirigente del Partito Socialista Italiano, oltre che assessore all'urbanistica e vice sindaco al Comune di Catania. Autore di numerose pubblicazioni sulla storia moderna e contemporanea della civiltà europea, si occupò di una vasta gamma di tematiche, dalla massoneria al risorgimento, dalla genesi dello Statuto regionale della Sicilia al dibattito sul meridionalismo. Alla commemorazione a lui dedicata, che ha avuto luogo nei giorni scorsi presso la sala del vascello del Palazzo Comunale di Riposto, erano presenti il sindaco Enzo Caragliano, il professore Niccolò Mineo e l'assessore Gianfranco Pappalardo Fiumara. Inoltre, nel corso della serata, sono intervenuti il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche di Catania, Giancarlo Magnano Sanlio, e alcuni docenti di storia moderna dell'Ateneo Catanese, tutti riuniti per celebrare un personaggio carismatico ed eclettico, che ha lasciato un'impronta importante nel panorama storico italiano ed europeo, ponendo sempre un'attenzione particolare per la sua terra d'origine. Abbiamo diviso in vari momenti il ricordo, cioè il professore in quanto professore, il preside come preside ne parlerò io, lo studioso e poi il campo in cui ha lasciato la traccia a duratura, le ricerche su 700 che tuttora sono di grande attualità e di grande importanza. Quindi è stato naturalmente un personaggio europeo, non soltanto italiano o siciliano, è giusto ricordarlo, ero sempre presente, anche e soprattutto per quelli più giovani che magari non avete conosciuto personalmente o non è stato possibile ancora farlo. È giusto che il ricordo di queste persone rimanga sempre.